Grazie a tutti. Allora saluto di nuovo tutti in presenza e a distanza e condivido innanzitutto lo schermo per ragionare con voi su quest'ultimo argomento, che dovrebbe essere una riflessione sulle tendenze del fotogiornalismo contemporaneo degli ultimi vent'anni. Vorrei riflettere con voi su come è cambiato il fotogiornalismo nel nuovo millennio, riprendendo alcune questioni che abbiamo iniziato ad affrontare nell'incontro qualche mercoledì fa sui percorsi della fotografia di informazione. Nel corso del Novecento il fotogiornalismo ha avuto un'importante funzione civile, ha contribuito ad alimentare movimenti d'opinione, in alcuni casi ha direttamente contribuito a dei cambiamenti politici o legislativi. Le foto di Louise Hine sul lavoro minorile negli Stati Uniti, scattate nei primi del Novecento, nell'ambito di una campagna di indagine e di denuncia del National Child Labor Committee, un comitato che lotta contro il lavoro minorile, portano un cambiamento nella legislazione vigente. Tra il 1904 e il 1912 Hine viaggia per tutta l'America per documentare una piaga sociale che vede due milioni di bambini costretti a lavorare, il più delle volte in condizioni di sfruttamento o di abbruttimento, nelle industrie di New York e del Midwest, nelle miniere della Virginia occidentale e nelle fabbriche tessili del North Carolina, nei campi di cotone del sud e realizza foto come queste che state vedendo. Le battaglie dell'organizzazione portano nel 1912 alla costituzione della USA Children Bureau del governo federale e nel 1916 e tra il 1916 e il 1918 il congresso adotta delle regole per il lavoro minorile, anche se poi esse vengono annullate dalla Corte Suprema perché interferiscono con la libertà dei singoli stati. Un altro esempio, tra il 1972 e il 1974, Eugene Smith si reca in Giappone e documenta le conseguenze dell'inquinamento da mercurio causato da una fabbrica di prodotti chimici, la KISO. Il suo racconto, pubblicato su Life e poi raccolto in un libro, ha un peso notevole nel portare il problema all'arrivata internazionale e nel sostenere la battaglia contro la fabbrica per il risargimento delle vittime. Alcuni esempi di questo lungo racconto che Smith svolge nel corso di diversi anni. Ma pensiamo anche a quel lungo lavoro di documentazione sulle condizioni di vita delle famiglie di agricoltori nei territori del Texas, del Kansas, dell'Oklahoma, costretti a un esodo di massa dalla grande siccità dei primi anni 30, realizzato dal gruppo di fotografi della Farm Security Administration, e voluto in questo caso proprio dal governo di Roosevelt per sostenere le sue politiche del New Deal. Fotografi come Dorotia Leng, Ben Shan, Arthur Rostein e molti altri, un gruppo nutrito di quasi 40 autori, si impegnano per diversi anni in una campagna di indagine sociologica che è stato il primo grande momento della fotografia documentaria, a cui tutti i reporter hanno poi guardato come a un punto di riferimento etico. Lo scopo della documentazione è duplice. Da un lato storico documentario, raccogliere una ricca documentazione sull'argomento anche a futura memoria, e dall'altro però soprattutto divulgativo e propagandistico. Le immagini servono come strumento di conoscenza della realtà, di indagine e di sensibilizzazione pubblicate sui giornali o veicolate attraverso mostre, devono informare la popolazione e portarla a condividere e sostenere i progetti di riforma. Ecco, questa funzione di indagine, testimonianza, denuncia che il fotogiornalismo ha avuto nella seconda metà del Novecento esiste ancora? Un ingresso nell'era digitale, la perdita di importanza della carta stampata, i cambiamenti radicali nel sistema di distribuzione delle notizie e nei mezzi di comunicazione, e più in generale i cambiamenti della società e del rapporto con la politica nell'era della globalizzazione lo hanno trasformato profondamente, ne hanno cambiato le funzioni fino a renderlo superfluo. Per riflettere su questo argomento partiamo da un tema specifico che ci permette di analizzare le diverse tipologie di immagini legate a temi di informazione degli ultimi decenni. Consideriamo il modo in cui sono state rappresentate, principalmente in Italia ma non solo, le guerre che hanno attraversato il Medio Oriente negli ultimi decenni. Fino ai primi anni 90 c'erano ancora giornali in Italia che mandavano un inviato sul luogo di un avvenimento per raccontarlo in profondità o sostenevano il lavoro dei freelance comprando loro i servizi. Lo ricorda il reporter Francesco Cito che tra gli anni 80 e 90 viaggia lungamente in Cisgiordania, Libano, Israele, documenta la prima intifada e nello stesso tempo racconta la società, la vita della gente. Ampi racconti fotografici in bianco e nero che poi pubblica su Testate come Sette, Panorama, il venerdì di Repubblica. Quando nel 1990 ci fu l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, racconta, il venerdì mi mandò dapprima in Arabia Saudita per fotografare i primi americani che arrivavano e poi di nuovo quando scoppiò il conflitto. Oggi una cosa del genere è impensabile. Da allora capiterà sempre più di rado che il settimanale sostenga il fotografo nei suoi viaggi, garantendogli la pubblicazione del reportage e che il lavoro attento dei narratori per immagini trovi ampio spazio sulle pagine dei giornali. Come dicevamo nell'incontro sui percorsi del fotogiornalismo del secondo novecento, negli anni 90 le grandi agenzie internazionali divengono le principali fonti di produzione e di distribuzione delle fotografie e impongono le loro immagini sui principali media dei paesi occidentali. Immagini come queste, scattate durante la guerra in Siria e in Libia. Anche in freelance, in diverse parti del mondo, tendono a vendere a queste agenzie o a conformarsi al loro stile fotografico. Pensiamo ad autori delle nuove generazioni come Emanuele Satolli, Alessio Romensi, Gabriele Michalizzi. Sono autori che magari vivono per lunghi periodi o anche stabilmente in Medio Oriente o in Africa eppure quello che costruiscono o propongono sui mezzi di informazione non sono racconti che cercano di entrare nella realtà di vita durante la guerra o di scandagliare i contesti sociali che l'hanno originata. A dominare è la facile commozione delle breaking news tanto amata dalla presse du corps del World Press Photo a cui è associato il mito del fotografo d'assalto cacciatore della notizia che sfida la morte per avere la foto. Questa pagina tratta dalla graphic novel Non si muore di lunedì ne è un esempio un intero racconto di quello che appunto è la nuova modalità narrativa del graphic novel incentrato su questo personaggio su questo fotografo che documenta la guerra e che a rischio della vita appunto scatta le sue fotografie quindi con un'enfasi sull'eroismo sull'adrenalina che anche il fotografo di guerra si trova ad avere e non la profondità del racconto la lentezza dell'indagine su una determinata realtà Certo è una fotografia che ha la sua importanza la fotografia di Cronaca con il suo sangue i suoi corpi lacerati le sue città trasformate in macerie ci riporta in tutta la sua evidenza la follia della guerra la sofferenza di una parte del mondo da cui distogliamo lo sguardo e tuttavia il rapido succedersi e sostituirsi di queste foto l'una all'altra in un sistema mediatico che consuma le notizie a un ritmo sempre più incalzante che vive in una schizofrenica bulimia di foto sensazionali che si concentra sull'attualità e nega l'approfondimento a lungo termine le priva di una funzione che vada oltre all'immediatezza della commozione una commozione che si sgonfia presto e che si scontra con l'impossibilità dell'azione accanto a queste foto di sangue e dolore troviamo poi un altro tipo di immagine che ci è familiare la fotografia iconica che simboleggia e sintotizza un fatto d'attualità attraverso un codice iconografico facilmente riconoscibile e memorizzabile un tipo di foto che ha caratterizzato la storia del fotogiornalismo fin dalle sue origini ecco allora la foto della deposizione della statua di Saddam Hussein che ci parla appunto del nostro bisogno di icone che ci confermino nelle nostre certezze che ci propongano letture comode facili della realtà che scorrano come la trama di un film già noto come i simboli di una storia che si ripete e a cui assistiamo da spettatori la statua del dittatore iracheno abbattuta e ingiuriata come quella di Stalin o di Mussolini non solo la statua del dittatore iracheno coperta dalla bandiera degli Stati Uniti che si fa emblema della potenza americana della vittoria del presunto trionfo della libertà come a Iwo Jima come sulla luna ecco alcuni elementi iconografici che tornano in questo tipo di fotografie d'agenzia alcuni simboli forti che rendono il messaggio facilmente leggibile sono immagini specchio che riflettono il nostro sguardo la nostra lettura del mondo senza aprire a nuove visioni immagini che hanno spesso una funzione illustrativa che colpiscono il lettore per la loro riconoscibilità che suggellano il dominio dell'immaginario sull'immagine accanto a queste due tipologie aspettate perché mi accorgo adesso che c'è questa finestra che copre una parte delle foto vediamo se riesco a togliere accanto a queste accanto a queste due tipologie di immagini che dominano il sistema dell'informazione contemporaneo troviamo le fotografie prodotte dai cittadini comuni in una pratica che si muove dal prelevamento compulsivo della foto in un'epoca in cui tutto va fotografato a forme più consapevoli di giornalismo partecipativo il cosiddetto citizen journalism ecco allora le fotografie e i video realizzati durante il linciaggio del leader libico Gheddafi dagli stessi partecipanti al linciaggio ecco le foto scattate durante la guerra in Iraq del 2003 nel carcere di Abu Ghraib da alcuni soldati americani come macabro ricordo delle torture a cui sottoponevano i detenuti che anticipano questo bisogno di registrare le proprie azioni di fotografare ogni cosa che si diffonderà con gli smartphone ma che in realtà ha origini antiche perché la pratica della foto ricordo con i cadaveri delle vittime era diffusa ad esempio come ci mostrano queste tragiche immagini nella campagna di Etiopia e la Domenica del Corriere già nei primi decenni del novecento chiedeva ai suoi lettori di mandare delle fotografie di attualità o di costume per una rubrica settimanale che era appunto la foto dei lettori abbiamo visto come nel sistema dell'informazione in un sistema dell'informazione sempre più ingessato che è come quello del nuovo millennio questo insieme di fotografie diventino un documento di denuncia potentissimo arrivando dove il fotogiornalismo dei professionisti non arriva la possibilità sempre più diffusa di avere una testimonianza di un fatto di cronaca o d'attualità politica grazie alla presenza di un passante con un telefonino ha posto insomma tutta una serie di interrogativi innanzitutto sul nostro rapporto con le immagini con la testimonianza e con la memoria sull'uso più o meno consapevole da parte dei cittadini del mezzo fotografico e poi sul rapporto con il professionismo siamo tutti wire o tutti fotoreporter il consumo quotidiano della fotografia favorisce o inibisce la percezione e la condivisione della realtà qual è il ruolo del fotografo professionista in un'epoca in cui decine di cellulari ci offrono ormai la testimonianza in presa diretta di un fatto le migliaia di fotografie postate e condivise dagli utenti sui social network durante le manifestazioni di piazza delle cosiddette primavere arabe in Egitto Tunisia Siria Libia si sono dimostrate una componente importante della mobilitazione uno strumento di comunicazione dal basso che ha contribuito a dare visibilità e sostegno alle proteste dei manifestanti dando ragione alle tesi di chi vede nel web un nuovo spazio di democrazia durante la guerra in Siria nelle zone occupate dai ribelli dove per i reporter della stampa internazionale era difficile entrare le fotografie scattate dai fotografi non professionisti sono diventate testimonianze fondamentali e il ruolo del giornalista professionista è divenuto quello di leggere quelle immagini vagliarne l'attendibilità attraverso il confronto dei dati la verifica incrociata dei diversi racconti e la propria conoscenza della realtà locale le stesse agenzie internazionali distribuiscono anche materiale proveniente dai non professionisti garantendone appunto l'affidabilità e comprandolo direttamente dai fotografi o da siti che sono nati negli ultimi 15 anni come Storyful costituita nel 2010 o la francese Citizen Side punto com in questo contesto si arriva a parlare un po' allarmisticamente di fine del professionismo adesso che tutti hanno con sé un telefonino con cui possono documentare un evento ci si domanda quale sia la funzione del fotoreporter non solo ci si spinge un passo oltre e si inizia a mettere in discussione l'attendibilità del reporter professionista e quindi inserito in un sistema dell'informazione strutturato rispetto a un fotografo cittadino che fotograferebbe senza condizionamenti in modo spontaneo e disinteressato ecco che torna allora la questione del binomio vero falso la paura della possibilità di manipolazione dell'immagine che come dicevo nel nostro scorso incontro sono oggi agevolate dal digitale e dall'intelligenza artificiale le fotografie che sono parte del sistema mediatico sono insomma guardate con sempre maggior diffidenza di contro a fotografie che vengono fatte circolare attraverso il circuito orizzontale della rete e che quindi sarebbero frutto di uno sguardo innocente eppure in questo proflugeo continuo e caotico di immagini in presa diretta si sente sempre più forte l'esigenza e la mancanza del fotografo interprete che vada oltre l'evidenza della cronaca o del dato oggettuale e ci dia strumenti per leggere e confrontarci con la realtà mentre tante foto realizzate dai comuni cittadini sono un esempio di una smania di fotografare che ha meccanismi psicologici complessi di una pratica ormai talmente diffusa da essere un meccanismo compulsivo che ci accompagna nelle situazioni più drammatiche o quotidiane un meccanismo che può essere anche incentivato dalla consapevolezza del potenziale economico dell'immagine ecco allora uno spot televisivo di una fotocamera Samsung che ci rivela in modo molto efficace questa sovrapposizione di piani di vita vita reale e di necessità di catturarla e rappresentarla in fotografia e quindi anche dello scollamento emotivo che si ha rispetto alla realtà e a quanto sta succedendo o l'immersione eccessiva in essa anche attraverso la foto provo a farvi vedere il video che c'è su YouTube vediamo se se ci riusciamo perché è molto ironico e emblematico con un attimo purtroppo di pubblicità lo vedete? è la la va 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 No, credo tu debba condividere quello screen perché qui noi continuiamo a vedere... Ah, perché se clicchi sul link non credo si condivida automaticamente, non ne sono certissima ma direi che è così. Allora facciamo così, continuo col discorso e poi proviamo a rivederlo alla fine, se riesco a recuperare. Adesso vedete di nuovo lo spot, la fotografia? Sì, noi abbiamo continuato a vedere la fotografia delle fotocamere digitali Samsung. Comunque questa copresenza, questa immersione nella realtà per cui la protagonista dello spot vede un cadavere e si spaventa e grida e sconvolta, però la reazione successiva qual è? Quella subito di prendere la macchina fotografica e fotografare per registrare quanto sta avvenendo e quindi questo bisogno di ricordare e di prendere possesso attraverso l'immagine di quanto sta succedendo e quindi una presa di distanza. Una volta che ha fotografato torna a gridare e a spaventarsi e poi però il telefono squilla e allora racconta quanto sta vedendo ed ecco allora di nuovo un allontanarsi dalla realtà. In una stessa frazione di tempo molto limitata delle reazioni diverse, delle partecipazioni emotive totalmente diverse e questo passaggio a un tempo futuro che è quello della memoria, della condivisione, della diffusione dell'immagine che già implica un rapporto totalmente diverso con quanto sta accadendo. Ma del resto va anche detto che la fotografia amatoriale che documenta per volontà o per caso un fatto d'attualità c'è sempre stata, non è un fatto legato al digitale, il digitale l'ha semplicemente amplificata. Pensiamo a questa fotografia dell'attentato a Giovanni Paolo II in cui si vede la mano dell'attentatore con la pistola che non è una fotografia di un reporter professionista ma che è stata scattata da un pellegrino tedesco in visita al Vaticano che tornando a casa e sviluppando le diapositive scopre la foto e capendo nel valore anche sia testimoniale che economico la mette nel circuito del sistema delle informazioni. Quindi quanto queste nuove forme di produzione e di diffusione delle immagini creeranno nuovi spazi di informazione, di conoscenza, di denuncia? Quanto sapranno produrre informazioni e narrazioni diverse rispetto a quelle proposte dai grandi organi di stampa? E quanto invece sommergeranno le fotografie dei professionisti sotto il peso di una massa indistinta di dati che non si saprà più come catalogare e decifrare? È il tradizionale sistema della notizia che viene messo in discussione con la sua filiera di produzione e distribuzione delle informazioni, i suoi canali di comunicazione, la sua organizzazione del lavoro, i suoi capisaldi basati sull'attendibilità delle notizie, la verifica delle fonti, la professionalità di giornalisti e fotoreporter a cui viene demandato il compito di raccogliere, interpretare e diffondere in modo corretto le notizie per informare i cittadini. Si riconfigurano insomma i confini, le forme, il concetto stesso di informazione giornalistica. D'altro canto, di fronte a tutto questo, il fotogiornalismo tradizionale muta pelle e si adatta a nuove scelte di racconto, fermandosi spesso a riflettere proprio su questo cambiamento e sulla società delle immagini in cui siamo ormai immersi. Nel caso che stiamo prendendo in esame, Giorgio Di Noto costruisce ad esempio a tavolino un racconto sulle cosiddette primavere arabe, rifotografando dal computer di casa istanti del flusso di video che arrivano dalla rete, e ci porta a riflettere sulla sovrabbondanza di immagini della società contemporanea, sul senso del fare informazione in una società in cui ormai vige la censura per eccesso, la cecità per troppa visione, in cui ogni notizia è a portata di mano eppure ci sfugge. Nello stesso tempo pone il tema della fotografia come fonte storica e come memoria, del dialogo che intestiamo con le immagini, della loro lettura e funzione. Il bianco e nero seppiato delle sue polaroid crea un oiato tra l'immediatezza della documentazione d'attualità e la distanza fisica che si frappone ormai tra noi e la realtà, tra il tempo reale della ricezione delle immagini e il tempo lento e ormai negato della riflessione su di esse. Il racconto ha una straordinaria forza provocatoria e concettuale, è un affascinante metadiscorso sul giornalismo visivo e sui mezzi di comunicazione. Ma qual è l'informazione che propone? Quali le foto che utilizza? I fatti sembrano già lontani, distanti, perdersi nella notte dei tempi come vecchie foto ingiallite. Come ho già accennato, molti autori si orientano verso quella che viene definita l'aftermath photography, una fotografia dall'approccio antigiornalistico che arriva su siti di disastri sociali e ecologici dopo gli eventi che li hanno colpiti e registra la loro condizione dopo il disastro con uno stile dal forte impatto scenografico che impressiona e colpisce, offrendo però una rappresentazione distante, quasi cinematografica dell'evento. Qui abbiamo due scatti molto famosi di Joe Meyerowitz sull'11 settembre 2001, che sembrano quasi appunto fotogrammi di un film di finzione e non fotografie scattate in presa diretta. Così la sofferenza di milioni di uomini e donne che hanno vissuto con la morte e la violenza accanto viene ipostatizzata ad esempio nel gruppo di foto, nel gruppo di Dario Michidieri, in cui una sedia vuota o un abbraccio che cinge l'assenza divengono elementare materializzazione della perdita. Anche qui non una scelta di racconto in presa diretta, non un entrare nella storia e raccontare quanto si sta svolgendo, ma una presa di distanza, la costruzione di un racconto a posteriori, studiato, fortemente concettuale, privato dell'elemento di pathos, di emotività, che una fotografia di reportage in senso stretto può avere. E queste fotografie che finiscono in una mostra su un libro e solo in seconda battuta sulle pagine di un giornale che le riprende e che invece di fare appunto un'informazione di reportage sceglie di costruire anch'essa il suo racconto in questo modo. Lo stesso può dirsi per Franco Piagetti, membro dell'agenzia fotogiornalistica Seven e autore di numerosi reportage d'attualità in altri contesti di guerra. Piagetti sceglie di allontanarsi da quelle formule di racconto, parla della volontà di non fare le foto che sono state già fatte e che forse hanno fatto il loro tempo, di cambiare il modo di scrivere, lavorando su situazioni inanimate. E quindi cosa fa? Fotografa Aleppo, la città distrutta, con queste tende che campeggiano nelle sue immagini, che un tempo erano le tende che venivano usate nei balconi della città per riparare dal sole o dare intimità, e adesso invece servono per proteggere dalla vista dei cecchini. tende che diventano un simbolo di precarietà, di solitudine, di sofferenza, ma sono fotografie in cui l'uomo non esiste più, non c'è un racconto della vita o della morte, c'è ancora una volta un'astrazione, una scelta fortemente concettuale. Altri autori, come Paolo Pellegrin e Fabio Bucciarelli, giocano invece su fotografie in bianco e nero di grande sensazione, foto di impressione, dalle ombre inquietanti, che diventano evocazione dolorosa di tutte le guerre, del disagio di fronte al dolore del mondo. Bucciarelli lavora molto in questi anni sulle guerre in Medio Oriente e realizza racconti che poi finiscono appunto in una serie di mostre, finiscono sui nuovi canali di internet, rielaborate come in questa immagine che viene riproposta in sei fotogrammi su Instagram, e poi appunto per le strade della città nei festival di fotografia e di fotografia di informazioni. Se l'epoca del grande settimanale illustrato è ormai finita, travolta dal torrente delle immagini in movimento, alcuni quotidiani si aprono alla fotografia, ma lo fanno affastellando foto di reportage in spazi ristretti, quasi come un tributo ormai dovuto al mito del reportage. Se pensiamo ai grandi reportage sui settimanali illustrati degli anni 60, allo spazio che veniva dato alle foto, pagine e pagine di immagini, con delle scelte grafiche fortemente studiate per valorizzare la fotografia e per valorizzare il messaggio, qui ci ritroviamo invece quasi con una necessità di mostrare anche per immagini, senza però riflettere a pieno sulla forza della grafica, sulla forza dell'impaginazione, restringendo e chiudendo un racconto lungo che potrebbe essere appunto di altro respiro e sviluppato su più pagine, in un'unica doppia pagina che annulla il senso delle fotografie stesse. Altri autori, come Francesco Cito, Pablo Balbontín, Annalisa Vandelli, rimangono invece legati alle forme del racconto di informazione ed approfondimento tradizionali, ma sono a loro costretti a cambiare i modi di diffusione delle proprie immagini. Balbontín racconta le conseguenze della Prima Guerra del Golfo e dei nove anni di embargo internazionale all'Iraq nel libro fotografico I dannati Iraq, la guerra silenziosa e costruisce appunto qui un racconto che si discosta enormemente dalla foto unica d'agenzia, della foto che si concentra sul colore del sangue e sulla violenza, un racconto che svolge nell'arco di un anno intero, tra il febbraio 99 e l'ottobre dello stesso anno, e che cerca di entrare nella quotidianità del paese, tornando al linguaggio del bianco e nero. Allora tre generazioni di donne e i volti di queste donne che parlano delle loro storie, delle loro vite, delle loro sofferenze, la realtà del lavoro, la quotidianità del lavoro per la strada, le diverse sfaccettature della vita dei bambini, con l'istruzione da un lato, il lavoro minorile dall'altro, dei momenti di gioco in una fontana, in una giornata torrida. E poi ancora, un negozio di dischi usati, ecco che il racconto ti dà tutta una serie di messaggi, Saddam Hussein dall'altro, da un lato la propaganda, la politica, e dall'altro però delle copertine di dischi di Benny Goodman, quindi un elemento che difficilmente per un occidentale è acclarato, è normale, una cultura che si apre anche all'Occidente, abbastanza insolito rispetto al tipo di narrazione che viene fatta su questi paesi. una manifestazione a sostegno del regime, le conseguenze dei bombardamenti, dell'inquinamento radioattivo causato dalle munizioni all'uranio impoverito, usato dagli eserciti americano e inglese durante la guerra, ed ecco insomma quindi il tentativo di raccontare una realtà e di far capire le conseguenze di una guerra o le origini che possono essere alla base di un altro scontro. Un ragionamento, riflettere sui perché, le foto di attualità stretta delle agenzie raramente ti inducono a porti la domanda del perché qualcosa accade, ti mostrano che sta accadendo, ti danno una grande angoscia per quanto sta accadendo, ma poi lasciano, si fermano lì, ne arriverà un'altra che ti darà la stessa sensazione senza farti fare il passaggio successivo, che è quello che invece questi racconti cercano di fare. Giovanni Porzio, un altro autore che lavora su questo tipo di registro. Ecco, come ho già sottolineato, queste immagini finiscono spesso solo in seconda battuta oggi sui mezzi di informazione. Circolano innanzitutto nei festival e nelle mostre d'arte e tutto questo cambia il loro stile e la loro funzione. I diversi canali di diffusione trasformano il messaggio, portano a cambiamenti nelle scelte di racconto. A volte favoriscono l'approfondimento. Il libro fotografico ha permesso a Pablo Balbontín di sviluppare un racconto comunque ancora più lungo e approfondito di quanto non avrebbe potuto essere quello realizzato solo per un settimanale. e tuttavia però la funzione non è più quella diretta dell'informazione. Finisce il racconto che finisce sulla stampa, dà la notizia e crea anche una reazione che può essere politica. Diventa altro, diventa cultura, diventa conoscenza, diventa emozione, però su un piano diverso che non è più quello della sfera pubblica all'interno della quale si muoveva al fotogiornalismo tradizionale. Molto spesso questi racconti si spostano dalla dimensione dell'informazione a quello dell'elaborazione e rimediazione concettuale, della ricerca estetica, dell'emozionalità, sperimentando anche la contaminazione con altri linguaggi. I diversi appunto luoghi di destinazione delle fotografie spingono a un cambiamento nello stile. Si assiste a una crescente estetizzazione e concettualizzazione delle fotografie. Insomma, la caduta dei confini tra mondo del fotogiornalismo e mondo dell'arte spinge la fotografia di informazione verso scelte espressive che si contaminano sempre più con i linguaggi di una fotografia di ricerca. Queste fotografie di Liz Sarfati scattate durante diversi viaggi in Russia nel corso degli anni 90 mostrano molto chiaramente le scelte espressive del nuovo reportage che appare sempre più legato ad una rappresentazione studiata della situazione con forti debiti verso il linguaggio del cinema e appunto verso la fotografia d'arte, di moda, di pubblicità. La dimensione di messa in scena è molto forte e si opta sempre più spesso per la messa in posa del soggetto che guarda in macchina, che riconosce la presenza del fotografo e costruisce con lui l'immagine. O ancora consideriamo queste fotografie di cronaca di Massimo Sestini che vengono realizzate dall'alto di un elicottero con una scelta che è di presa di distanza dalla situazione che viene fotografata e che rimanda alle scelte della fotografia di paesaggio, di territorio, di una fotografia contemporanea che lavora molto sull'obiettività, sulla strazione dell'immagine. Il linguaggio si avvicina terribilmente a quello della pubblicità o della finzione cinematografica con una fotografia che la qualità tecnica delle nuove macchine rende sempre più perfetta ed ulcorata da ogni elemento di disturbo. A caratterizzare questo genere di fotografia è la stessa logica della traccia e quindi dell'impassibilità della fotografia di territorio, una lettura della storia che non si compie nella rappresentazione del suo dipanarsi ma nell'osservazione delle tracce che ha lasciato. Una mostra al FOAM di Amsterdam dal titolo Antifotojournalism ha messo in evidenza queste nuove modalità di racconto caratterizzate dalla contaminazione tra i generi, dalla commistione tra il linguaggio del reportage e quello delle staged photography e dal fotografare la realtà come se fosse un film puntando sull'estetizzazione e simbolizzazione delle immagini a creare il film stesso il passo è pericolosamente breve. Negli ultimi anni si è diffusa la pratica dello storytelling un racconto su un fenomeno sociale che però non è realizzato fotografando la realtà che scorre davanti agli occhi del fotografo ma mettendo in scena delle situazioni che si ritengono rappresentative di quella realtà. è quello che fa ad esempio Giovanni Troilo in un racconto sulla città di Charleroi spostando appunto la sua testimonianza dal piano del reportage di informazione giornalistico che mostra qualcosa che sta accadendo nella realtà e con cui il fotografo entra in contatto a quello dello storytelling un racconto illustrato un'illustrazione basato su un soggetto documentario attraverso cui il fotografo mostra una sua interpretazione della realtà di un fenomeno di un soggetto attraverso immagini simboliche che a volte sono addirittura costruite e poi pesantemente rielaborate in post-produzione. Questo lungo racconto viene premiato al World Press Photo del 2015 nella sezione storie di attualità ma poi il riconoscimento viene revocato proprio in seguito alle proteste di diverse persone in particolare del sindaco della città che sostengono che la sua la dimensione artificiosa del racconto sia eccessiva. La scelta la scelta non è del fotografo non è più quella di andare nella città osservare dialogare con la gente e prendere delle fotografie in presa diretta come faceva Cartier-Bresson l'idea dell'istante decisivo comunque di un frammento della realtà che viene registrato sulla pellicola il passaggio è un altro la scelta di ragionare su un luogo di conoscerlo di dare una propria interpretazione e poi però di decidere a tavolino tutta una serie di tematiche rappresentative di quella lettura della realtà e metterle in fotografia e quindi a quel punto la fotografia è una fotografia che non è più la documentazione della realtà rimane comunque una tua lettura che fai a posteriori così ad esempio la fotografia di sinistra è una delle più contestate perché si è scoperto che la persona in macchina era un conoscente del fotografo e perché all'interno della macchina è stato inserito un flash o una luce che permettesse questa particolare resa dell'immagine fotografica quindi un passaggio che per molti è stato considerato in debito ma che è un passaggio che tanti fotografi anche di informazione iniziano a fare senza spingersi ai livelli di costruzione o potremmo dire di falsificazione di Troilo ma comunque scegliendo questo tipo di messa in posa questa è un'altra fotografia premiata sempre al World Press Photo negli stessi anni che racconta di una coppia omosessuale e anche qui la dimensione di posa di allestimento dell'immagine è forte tant'è vero che se confrontiamo quel tipo di fotografie con le fotografie che vengono realizzate in questi anni da artisti fotografi come Jeff Wall come Gregory Crewson scopriamo una rispondenza di stili fortissima queste sono immagini che sono studiate a tavolino che richiedono pure di giorni e giorni costruite pensate su grande formato per avere un grande effetto un grande impatto visivo ma sono immagini che appunto tornano ormai con la loro estetica che possono essere confrontate che hanno un forte parallelismo anche con fotografie come questa che è una fotografia di informazione scattata da Luca Catalano in un ospedale in Siria o come questa di Gabriele Michalizzi foto di reportage queste sì in presa diretta la presa diretta però rimane alla fine edulcorata e depurata di tutta una serie di elementi che sono quelli dell'imperfezione del reale delle delle stemporaneità no? che è funzionale alla cultura non solo fotografica contemporanea quello che viene meno in tutti questi progetti è la prossimità con il soggetto si abdica all'elemento della spontaneità e del rapporto diretto è sempre mantenuta una distanza che non è solo critica ma spesso è anche emotiva e segna quella che per me è una svolta antropologica nei rapporti umani e sociali l'empatia che c'era nella fotografia umanista degli anni cinquanta qui è totalmente assente se nell'ottocento la nascita della fotografia ha rappresentato il coronamento di un passaggio secolare dalla trascendenza all'immanenza l'espressione di una cultura illuminista che ha affermato la centralità della vita vissuta degli individui fino a farne il perno della sua rappresentazione ora si sembra si stia assistendo a un processo opposto di rilettura creativa della realtà con fotografie che rimettono in scena il reale optando per una immagine allestita studiata è l'elemento imprevisto e inafferrabile della realtà che sembra far paura è l'uso della fotografia come strumento di confronto e scoperta del mondo e degli altri che sembra stemperarsi è interessante ragionare su come le scelte della distanza di ripresa rispetto al soggetto riflettano diverse posizioni culturali di un autore e di un'epoca pensiamo a Robert Cupp e alla sua teoria dell'andare vicino se non sei troppo vicino la foto non può venire bene perché devi essere dentro l'avvenimento devi viverlo devi partecipare o pensiamo alla fotografia di paesaggio dell'ottocento con le sue vedute panoramiche che era espressione di una cultura che pensava di poter leggere un territorio e impossessarsene darne una rappresentazione complessiva e poi invece alla teoria del frammento della cultura contemporanea con delle fotografie che diventano invece fotografie di particolari perché l'idea di poter interpretare la realtà nel suo insieme viene meno fino alle riprese aeree lette come estetizzazione e allontanamento dai problemi c'è una forte dose di virtualità in queste foto quasi come se la realtà venisse sempre più percepita come finzione messa in scena influenzata dagli immaginari e dalle estetiche create dai mass media si affermano scelte di rappresentazione sempre più teatrali rispetto alla scelta di una fotografia documentaria che racconta la vita nel suo scorrere che si cala nel flusso della vita qui sembra esserci spostati su un piano che vede sempre più la realtà stessa trasformata in rappresentazione altri esempi molto recenti questo lungo racconto realizzato da Fabio Bucciarelli sul covid nella zona di Bergamo che viene commissionato e pubblicato dal New York Times è espressione di questa di questa visione della fotografia documentaria oggi delle fotografie che hanno una composizione molto forte che hanno questa pulizia dello scatto che circolano appunto oltre che sui giornali in mostre fotografiche e che sembrano appunto dei fotogrammi di un film questi nuovi indirizzi nella fotografia documentaria si legano a un cambiamento sociale politico e culturale profondo che ha caratterizzato gli ultimi trent'anni e si intrecciano con la rivoluzione tecnologica che segna gli anni novanta e i duemila e che cambia radicalmente il sistema della comunicazione i meccanismi di produzione distribuzione e fruizione delle notizie e modifica per molti aspetti il rapporto con l'immagine fotografica oggi non ci troviamo più di fronte a una diffusione delle notizie all'interno di quei contenitori organizzati che erano i giornali con una loro ben precisa logica nella veicolazione delle informazioni all'interno di un'edizione e tra un'edizione e l'altra ma una proliferazione di immagini che rimbalzano da un canale all'altro da un dispositivo all'altro in una forte decontestualizzazione in un ordine che a volte non è neppure più deciso da un gruppo di individui ma da un algoritmo e questo del resto è un cambiamento che caratterizza molte delle forme di diffusione della conoscenza e del sapere nell'epoca digitale non si parte più dal generale per scendere al particolare ma il passaggio al contrario hai delle informazioni molto specifiche su un determinato avvenimento o evento che poi devi essere tu in grado di contestualizzare in un contesto più ampio che internet non necessariamente ti dà insomma nell'ultimo decennio del novecento si entra nell'era dell'elettronica e quindi dell'economia immateriale le comunicazioni si fanno sempre più facili e rendono il villaggio globale teorizzato da Marshall McLuhan ancora più globale si passa dalla società industriale fondata sulla meccanica a quella digitale con la società che alcuni critici definiscono ipermoderna dei flussi dell'immateriale della comunicazione e in fotografia si assiste appunto al passaggio dall'analogico al digitale che si compie pienamente nei primi anni 2000 già nei primi anni 80 la Sony aveva creato un prototipo di fotocamera digitale ma il progetto era poi stato accantonato torna alla ribalta e si impone nella metà del decennio successivo nel 1991 viene pubblicato il primo sito web al mondo nel 2004 nasce Facebook nel 2010 Instagram nel 2000 viene diffuso il primo telefonino con fotocamera incorporata che ancora negli anni 90 sembrava una follia il fotografo e critico John Fontcuberta lo confessa che fosse una cosa assolutamente impensabile lui che era dentro il sistema dell'informazione racconta di essere stato contattato da una società di telecomunicazioni sull'ipotesi di un telefonino che scattasse anche fotografie e ricorda di aver risposto con ironia come se fosse un'invenzione folle assolutamente inutile come quelle invenzioni dei film di James Bond in cui si trovano dispositivi assolutamente improbabili o inutili ecco tutto questo trasforma quindi profondamente la società in modi in cui le immagini giornalistiche vengono diffuse e recepite ma anche in modi in cui i cittadini si accostano e rapportano con la fotografia facciamo quindi un passo indietro rispetto al discorso e all'interrogativo di partenza e richiamiamo un attimo in estrema sintesi quali sono state le caratteristiche di questo passaggio che ci porta nella realtà in cui tutti noi siamo immersi una realtà fluida che cambia in continuazione e che come tutte le realtà non ancora storicizzate è difficile da analizzare sul piano della comunicazione giornalistica la diffusione della fotografia digitale l'informatizzazione delle redazioni dei giornali e l'affermazione dei nuovi mezzi di comunicazione legati a internet cambiano innanzitutto profondamente il sistema di produzione e di distribuzione delle immagini rendendo quasi istantaneo il passaggio dalla produzione delle immagini alla loro distribuzione lo accennavo in uno degli scorsi incontri le fotografie circolano sempre più attraverso la rete di alcune grandi agenzie o banche dati internazionali che coprono gli avvenimenti a livello globale e riducono gli spazi di azione per altre immagini sono le cosiddette big tree Reuters AP AFIP oligopoli che hanno tutta una serie di agenzie sparse per il mondo che inviano quasi in tempo reale le immagini a un ufficio centrale che gestisce la distribuzione delle foto ai diversi media a livello globale e che sono ormai responsabili della diffusione della maggior parte delle foto a livello mondiale qui lo vediamo quattro schermate di Instagram prese qualche giorno fa a breve distanza l'una dall'altra della Reuters di AFIP di AP e di un'altra agenzia di cui parlerò fra poco che è Getti e lo stile di queste immagini le tematiche i modi di rappresentazione sono quelli che su cui ho riflettuto poco fa foto fortemente drammatiche iconiche quasi cinematografiche accanto a queste tre grandi agenzie si costituiscono sempre nella seconda metà degli anni 90 due colossi imprenditoriali che attraverso un'aggressiva politica di acquisizione di archivi e agenzie divengono il principale punto di riferimento per la vendita di ogni genere di fotografia sul mercato internazionale sono Corbis e soprattutto Getty E-Mails appunto la quarta la quarta schermata che vedete sulla destra agenzie che non sono specializzate in foto di news ma che vendono immagini di tutti i tipi quelle che vengono definite foto di stock che servono a illustrare argomenti di vario genere in ambito commerciale di intrattenimento o di comunicazione la necessità di reggere la concorrenza di queste due strutture da parte delle agenzie di informazione porta a una crescente ibridizzazione dello stile della fotografia di notizia rispetto a quella di stock Queste insieme di agenzie si propongono come veicoli e garanzia di un'informazione di alta qualità dagli alti standard tecnici ed eontologici legata all'idea di un'informazione imparziale e corretta ma nello stesso tempo soggiacciono a un modello fortemente condizionato dall'industria culturale devono rispondere a un pubblico a un pubblico globale quindi a criteri di interesse e di rappresentazione il più possibile universali a criteri di universalità e genericità che possono interessare una clientela il più vasta possibile pur tenendo presente la necessità di adattarsi alla cultura dei diversi paesi in cui le immagini vengono trasmesse delle storie e delle modalità di racconto particolari legate a un contesto specifico non possono interessare molti di questi fotografi che lavorano sul campo in determinati luoghi propongono magari dei racconti particolari ai loro capi ufficio ai capi dei diversi bureau e la risposta è sempre al mondo non interessa al mondo non interessa della raccolta delle carote è un aneddoto che un fotografo raccontava il tema deve essere il più generico e il più simbolico possibile eppure sono proprio le storie particolari quelle che poi ti aiutano a capire la complessità del pianeta la complessità delle diverse situazioni la complessità di una regione dove scoppia una guerra e tutto questo invece viene sottovalutato e passato sotto traccia o addirittura sotto silenzio la produzione delle agenzie vive in quel costante flusso di informazioni sull'attività del giorno sulle breaking news senza lasciare spazio ad altri in un circolo chiuso che si autoalimenta e che tende quindi all'autoreferenzialità e in questa tendenza all'astrazione perde la ricchezza semantica della diversità diventa spesso un'immagine senza un volto accanto a questo poi abbiamo alcune agenzie legate a paesi che per ragioni politiche e culturali non partecipano al flusso di notizie della stampa occidentale un esempio l'esempio forse più importante più significativo è quella della sin qua cinese che raccoglie immagini dai suoi fotografi in giro per tutto il mondo e poi però le distribuisce solo all'interno della Cina o a paesi che hanno con la Cina un legame culturale politico economico particolare questo con una scelta di racconto e di rappresentazione legati alle necessità anche propagandistiche del regime un esempio che ci riporta alla carta stampata le prime pagine del 7 ottobre con fotografie delle agenzie internazionali che tornano tre immagini tre o quattro immagini che vengono utilizzate da tutte da tutte le testate italiane con il digitale al di là del discorso sull'informazione ragioniamo su quelle che sono le caratteristiche di questa nuova fotografia digitale dicevamo la possibilità dicevamo già nell'incontro scorso la possibilità di manipolazione dell'immagine di fotoritocco con Photoshop aumenta cresce la possibilità di intervento e di manipolazione della fotografia e quindi cresce anche il sospetto e la diffidenza verso l'immagine è un tema che è stato ed è tuttora al centro di interminabili discussioni da parte dei critici e degli storici della fotografia divisi tra chi vede tra la tecnologia analogica e quella digitale una frattura epocale arrivando a parlare appunto per la fotografia digitale di post fotografia di un'immagine costruita e appunto manipolata e chi invece tutto sommato continua a ritenere prevalenti gli elementi di continuità con il digitale la luce non si imprime più su un supporto fisico non c'è più un negativo che fisicamente cattura la traccia della realtà e la mancanza di un supporto materiale come la pellicola o la lastra e il moltiplicarsi delle possibilità di interventi di post produzione fino ad arrivare oggi alla creazione di immagini a base fotografica da parte di programmi di intelligenza artificiale portano ad un attenuarsi di quell'enemento referenziale di quell'aspetto di indice e traccia del mondo sensibile che è stata la caratteristica principale della fotografia analogica le immagini sono sempre più costruzioni etere che possono essere sottoposte con grande facilità a manipolazioni ricollocando persone reali in scenari immaginari associando spazi e tempi diversi in un unico fotogramma che mantiene però una sembianza di realtà lo abbiamo visto con le foto delle piramidi di Giza sulla copertina del National Geographic nel lontano 1982 lo vediamo in questo scatto questa fotografia di Annie Leibovitz che realizzata per Vanity Fair ricompare sulla copertina della rivista ma con un'aggiunta di un terzo elemento di un uomo accanto alle due attrici lo vediamo in quest'altra copertina due campionesse di patinaggio sul ghiaccio che vengono accostate sullo stesso campo sullo stesso sullo stesso luogo per evidenziare la concorrenza tra le due in un'immagine che però è appunto un fotomontaggio o ancora la piageria del direttore di Panorama nel 2003 che ci mostra la testa e la nuca di Berlusconi rinfoltita rispetto a quello che è uno scatto di Reuters apparso su Newsweek che è invece la foto originale altro esempio che torna ripetutamente quando si parla di manipolazione è questo accostamento fra due copertine dedicate a O.J. Simpson accusato dell'omicidio della moglie e la prima vede molto chiaramente un intervento di postproduzione sulla foto con una funzione di criminalizzazione del personaggio il volto con la barba accentuata il colore nero della pelle anch'esso accentuato ed ecco che la fotografia acquisisce un'altra un'altra valenza che sarebbe stata comunque data per scontata o naturale se non ci fosse stata la casualità delle due fotografie pubblicate sulle due copertine diverse altro esempio che ha fatto ai tempi scalpore questa questa fotografia della famiglia reale spagnola con l'insieme dei bambini che non si riusciva a portare tutti insieme davanti al fotografo e che quindi è stata costruita con Photoshop anche in un modo abbastanza artigianale e poco accurato il che ha ha portato a tutta una serie di ironie e di di risposte ironiche sul web e sui mezzi di comunicazione e anche però a uno sconcerto la fotografia che è informazione che è racconto che è testimonianza che viene rielaborata e quindi falsificata il digitale ma il digitale che non inventa niente di nuovo perché poi il fotomontaggio anche se con più difficoltà c'è sempre stato e nell'ottocento noi ritroviamo la stessa dinamica della famiglia reale spagnola con i Savoia sparsi qua e là in Europa che vengono fotografate le cui teste vengono fotografate e poi applicate sui corpi di una serie di comparse vestite ad hoc per l'occasione a Torino nel teatro reale si usava questo metodo anche per evitare la problematica del mosso ci dice Ando Gilardi ultimo esempio che vi porto un esempio casalingo fatto da due giovani le cugine di una ragazza che è uccisa a Garlasco protagonista di un fatto di cronaca nera nel 2007 che usano il computer e Photoshop per creare un'immagine ricordo che sottolinei il legame affettivo fra loro due e la ragazza stessa quindi la reinvenzione dell'immagine la manipolazione dell'immagine ma per soddisfare quella funzione di ricordo di oggetto della memoria che la fotografia ha sempre avuto dall'epoca della fotografia si passerebbe insomma secondo molti critici all'epoca dell'immagine che domina il sistema della comunicazione e la società con un'apparenza di realismo che si fonda invece su fotografie pesantemente ritoccate se non addirittura su immagini sintetizzate al computer come ci dice Stéphane Couturier con l'immagine digitale la frontiera tra reale e artificiale diventa sempre più labile il dubbio diventa parte integrante dell'opera altri esempi sempre di reinvenzione dell'immagine fotografica in questo morfio in fotografico e in questa pubblicità apparsa su Time anzi no scusatemi questa pubblicità del profumo Time e in tutta una serie di immagini che non possono effettivamente più essere definite fotografie ma che hanno la parvenza di fotografie con tutte le ambiguità che questo porta è il fotoritocco che poi diventa anche fotoritocco sui volti e i corpi di persone in carne ed ossa che cercano di emulare appunto degli immaginari o delle rappresentazioni quindi ecco sempre il gioco di osmosi fra quanto l'immagine ci mostra e quanto noi vogliamo emularla e essere simili ad essa ma le immagini ma le nuove tecnologie hanno creato soprattutto quell'overload visivo quella sovrapproduzione di immagini che fa poi parte di un più generale overload informativo e che è diventato forse il principale tratto distintivo della società in cui viviamo e che spinge alcuni sociologi a parlare addirittura di un Alzheimer sociale di un'incapacità della mente umana ad assimilare la quantità di stimoli a cui oggi è sottoposta la facilità di produzione delle immagini con le macchine digitali e poi con i telefonini e la loro circolazione e moltiplicazione attraverso i canali di internet ha determinato una diffusione di immagini senza precedenti che incide sul nostro rapporto con la fotografia e condiziona la nostra visione del mondo la proliferazione di immagini che caratterizza il nostro tempo diventa un'ipertrofia dell'informazione che rende sempre più difficile fermarsi a riflettere sulle notizie e vagliarle trascina le immagini fisse in un flusso continuo che le priva della loro dimensione iconica della loro capacità di favorire la riflessione critica e le fa diventare fotogrammi di un unico interminabile film porta a quella che viene ormai generalmente definita come una censura per eccesso a una cecità per troppa visione in cui la sovrabbondanza di informazioni ne annulla il valore Sergio Dani ci dice siamo diventati ciechi davanti all'ipervisibilità del mondo chiunque viaggi oggi su internet ha la sensazione di accedere e in effetti accede a un mondo di informazioni che prima non era disponibile scrive la storica dell'arte e della comunicazione Gloria Bianchino ma sono solo pochi coloro che riescono a organizzare quelle informazioni e a costruire con esse un senso la gran parte del pubblico le attraversa senza rendersene conto le pone sullo stesso piano come in effetti sono sul gran banco di vendita web e quindi non è in grado di scegliere e capire per farlo dovrebbe conoscere non semplicemente i materiali ma le matrici ideologiche di coloro che li hanno elaborati e giusto apposti e quindi dovrebbe dare un senso storico non solo alle notizie e alle loro figure ma all'iconografia e iconologia di quelle stesse figure ecco che allora torna il tema della cultura visiva della consapevolezza che ogni cittadino deve avere nella lettura e nella realizzazione delle immagini andando oltre allo scatto compulsivo che satura il mondo di brutte foto questo tema della sovrabbondanza delle immagini che segna la società contemporanea creando quella che viene definita una realtà aumentata ha suscitato l'interesse di molti artisti che hanno ragionato su una proliferazione ormai incontrollabile di immagini lo hanno fatto Eric Kessels o Van Du in una serie di installazioni come queste che ragionano sull'idea del riciclo anche di un'ecologia delle immagini molti autori rinunciano a creare immagini nuove per ripensare dare nuovi significati alla massa di fotografie già esistenti assecondando quindi l'idea di Walter Benjamin dell'artista come un rigattiere che raccoglie rifiuti per dare loro forme e significati nuovi l'abbiamo visto prima con Giorgio Di Noto che propone un reportage provocazione sulla primavera araba costruito attraverso immagini scelte recuperate da internet prefigurando l'immagine di un fotoreporter del futuro che si reinventa come un viaggiatore virtuale che riassembla in un suo personale racconto le immagini scattate da altri e catturate sulla rete Penelope Umbrico è una delle artisti delle artiste che è più nota per questo tipo di ricerca costruisce dei grandi delle 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 grandi rappresentazioni montando tutta una serie di immagini sullo stesso tema prese da internet in questo caso dei tramonti e ci riporta quello che è sia la quantità ormai infinita di immagini che circolano sia la loro ripetitività la ricorrenza di certi stereotipi di certi modi della rappresentazione lo stesso fa ad esempio Dina Kelberman nel momento in cui in un lavoro come I'm Google propone foto prese da Google e montate attraverso continui rimandi concettuali che che ci riportano appunto a questa ricorrenza di schemi di rappresentazione a questa ricorrenza di immagini tutti uguali e tutte simili sulle diverse schermate dei nostri computer Christopher Becker in Hello World compone un mosaico di videoconferenze che evidenzia la persistenza di schemi di ripresa e anche di comportamento John Fontcuberta costruisce tutta una serie di sue immagini attraverso un programma fotomosaico di disegno grafico che assembla migliaia di fotografie scelte in base a determinate parole chiave legate al tema dell'immagine finale in questo caso produce una cartolina di un tramonto sull'isola di Phuket in Thailandia a partire da 6.000 immagini trovate sul web adoperando come parole chiave tsunami giant wave cataclysm natural disaster e termini simili molto curioso è il lavoro che fa Philip Smith che brevetta un dispositivo che progetta un dispositivo che chiama camera restritta da applicare a una fotocamera che impedisce di scattare se rileva che di quel soggetto geografico ci sono già troppe foto in questo caso a essere messa in discussione non è tanto la sovrabbondanza di immagini ma appunto la loro ripetività e banalità e questo effettivamente è un dato su cui riflettere assistiamo ogni giorno alla realizzazione e diffusione di migliaia di fotografie che però per la maggior parte assecondano cliché iconografici stereotipi culturali non si aprono ad alcuna originalità e l'elenco potrebbe andare avanti a lungo interpretando lo smarrimento del protagonista del film Lisbon Story che in questa proliferazione di immagini non sa più scegliere cosa raccontare l'ultimo nome che faccio è quello di Joaquin Smith che lavora che porta avanti ricerche tutte legate a un discorso di recupero di immagini precedenti se ormai il mondo è saturo di immagini piuttosto che di produrne di nuove meglio recuperare immagini passate e ridare loro significato dignità memoria ecco che allora recupera vecchie fotografie le accosta evidenziando comunque la ricorrenza ancora una volta di certi schemi compositivi e ridà loro una nuova vita questo overload di immagini si coniuga perfettamente con la tipologia delle fotografie che vengono diffuse dalle agenzie di news che dominano il sistema dell'informazione immagini di grande effetto di grande drammaticità che però non entrano nei problemi non li analizzano ci sommergono con una successione infinita di fotografie di sofferenza violenza e dolore che finiamo per considerare come parte di un ordine naturale e immodificabile gli anni 60 del 900 sono stati gli anni in cui si pensava davvero di cambiare il mondo gli anni della no war generation oggi quella speranza è venuta meno e forse la tipologia di immagini che ci guidano ogni giorno nella lettura della nostra realtà ne sono al contempo la causa e la conseguenza non sono più immagini che cercano di aiutarci a capire una determinata situazione o cercano di farci entrare in un problema e quindi ci spingono anche a tentare di risolverlo ma sono immagini che ripetendo delle tragedie sempre uguali sembrano quasi dirci che quelle tragedie non sono risolvibili sono un dato di natura e di fatto con cui dobbiamo tristemente convivere ancora l'immaterialità della fotografia il fatto che essa sia sempre di meno un oggetto stampato e sempre di più un'immagine virtuale sugli schermi dei nostri dispositivi elettronici cambia il nostro rapporto con essa siamo sempre più immersi in un mondo di immagini in cui in un insieme vario di dispositivi che le riproducono e che rendono sempre più labili i confini spazio-temporali e quelli tra realtà e immagini si assiste a una proliferazione dei piani della rappresentazione e al venir meno del confine tra questi piani e quelli della realtà stessa si perde in qualche misura l'originale se entriamo in un mondo di copie che si riproducono su dispositivi diversi ma quella che è il negativo originale il documento della realtà viene meno e viene meno quindi il legame con la realtà stessa c'è una frase emblematica a riguardo di John von Cuberta che ci dice quando le immagini cominciano a prendere il posto del mondo la fotografia non ha più ragione di esistere in quel vortice allora interviene il digitale ecco l'ultimo grande cambiamento di questa svolta digitale forse quello più originale o più marcato è quello che porta a che viene chiamato fotografia della condivisione l'immagine continua a flusso continuo delle immagini sui social network e la loro trasmissione via telefonino sposta sempre più l'asse dalla dimensione della memoria che da sempre caratterizza la fotografia a quella della condivisione la fotografia diventa un linguaggio con cui le persone non interpretano più il proprio presente per consegnarlo alla memoria per farne materializzazione del ricordo o strumento per sancire o consolidare o celebrare il proprio status sociale ma le usano per comunicare al posto della parola mostrare una situazione che si sta vivendo rendere partecipi di uno stato d'animo per poi magari cancellare l'immagine stessa o dimenticarla sui propri telefonini questa dimensione discorsiva della fotografia è appunto forse il tratto più innovativo della fotografia contemporanea il dato che effettivamente segna uno scarto forte rispetto al passato è un uso che trasforma le funzioni sociali dell'immagine e incide sul suo linguaggio diversi sociologi l'hanno sottolineato c'è un testo un saggio di Anna Ficci molto recente che si intitola nella giostra dei social dei social media mi pare che riflette su questo la fotografia sembra passare da una funzione di simbolizzazione di alcuni momenti topici dell'esistenza che ha avuto soprattutto fino agli anni ottanta del novecento a una di condivisione dell'esperienza quotidiana e secondo Anna Ficci e molti altri questo passaggio sarebbe legato a un cambiamento sociale forte al venir meno di una società ordinata divisa in classi e incentrata sulla retorica del lavoro con alcuni immaginari ricorrenti legati al proprio percorso di realizzazione esistenziale per arrivare invece all'affermarsi di una situazione di precarizzazione dell'esistenza e vetrinizzazione della società che spinge a cercare un'affermazione di sé attraverso l'ostentazione del proprio presente di tutti i momenti della propria esistenza anche i più ordinari non ci sarebbero più momenti rilevanti da ricordare legati a tappe o eventi particolarmente importanti nel proprio percorso esistenziale ma esistenze che vivono in un continuo precario presente e che usano la fotografia per affermare se stessi per cercare un'affermazione appunto attraverso l'esposizione fotografica a questo punto mi fermerei una 5-10 minuti per poi riprendere una mezz'ora e concludere il discorso se per voi va bene ci riposiamo un attimo tutti grazie grazie Grazie. Questo libro, questo libro, questo libro, questo sono, che ci sono, ecco lì, il primo scopo di ieri, poi era di 200, ecco lì, il scopo di ieri, quello che scrisse il libro, Bandiera Rossa, Bandiera Rossa. Dobbiamo ricordare al dottor Manganielli che stiamo registrando la lezione. Allora, dopo questa rapida disamina delle trasformazioni della fotografia nell'epoca del digitale, torniamo all'interrogativo di partenza. Qual è la funzione sociale che attribuiamo alla fotografia di informazione in questo nuovo contesto sociale, politico e tecnologico? Esiste ancora un ruolo sociale del fotografo? Quello a cui assistiamo oggi è un cambiamento nei rapporti tra sfera privata e sfera pubblica e un affievolirsi della dimensione pubblica e civile del fotogiornalismo, quasi che esso retrocedesse dalla sfera pubblica in cui ha agito nel corso del novecento per muoversi unicamente nei confini di una dimensione privata e o individuale. Nel corso del novecento e soprattutto nella seconda metà del secolo, la fotografia è stata uno strumento di informazione per i singoli cittadini, ma è stata anche una componente importante nel formare movimenti di opinione che poi si sono mobilitati per delle battaglie civili, sociali e politiche. Pensiamo a questa foto di Gordon Parks, che è stata un potente simbolo della discriminazione raziale negli Stati Uniti e nel corso degli anni è tornata come testimonianza, memoria, denuncia nelle battaglie contro la discriminazione raziale degli afroamericani. O pensiamo a quell'insieme di fotografie che vi ho già mostrato quando abbiamo parlato della contestazione della fotografia del 68, quei lunghi reportage di Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Luciano D'Alessandro, che sono entrati nei manicomi, ne hanno raccontato le condizioni allucinanti e hanno quindi svolto un ruolo importante a sostegno delle battaglie che stava svolgendo in quegli anni Franco Basaglia per chiudere i manicomi, per creare delle nuove forme di assistenza al disagio psichico. Quindi una funzione di documentazione, di informazione, ma anche di denuncia e di pressione politica importante. La carta stampata e con essa il giornalismo visivo era uno strumento di pressione politica appunto, che rispondeva a un desiderio di conoscenza e di rinnovamento di una parte della società. Ora questa funzione sembra venuta meno, forse perché sono venuti meno i grandi movimenti di massa del secondo novecento. La fotografia circola in un sistema mediatico sempre più intricato e compulsivo, conserva e rinsalda la sua capacità di rappresentazione, di definizione potremmo dire di un universo culturale, ma perde l'altra sua componente fondamentale, la sua capacità performativa, di messa in moto di un processo politico e sociale. Fotografie e video scorrono e si perdono in un flusso continuo che attraversa televisione, siti internet, giornali, senza avere più un eco, una rispondenza sul piano politico e sociale. Si pone insomma il problema della crescente dispersione, assenza e insignificanza dell'immagine di informazione nel sistema mediatico e nella società contemporanea, della bancanza di incisività che trasforma sempre più fotografo e giornalista in quello che Domenico Quirico definisce un testimone del nulla, un narratore condannato a parlare a una platea vuota, una Cassandra inascoltata. È la tradizionale funzione del fotogiornalismo e del giornalismo come tramite tra il cittadino e la politica che è venuta a meno, il suo essere cardine per un movimento d'opinione che si trasforma in azione politica collettiva. viene meno quest'idea di partecipazione che permette alla fotografia di essere motore di un'azione collettiva, di campagne di mobilitazione politica e sociale. Ed è tra l'altro questo elemento, questa inerzia, questa passività che rende sempre più faticoso il confronto con le immagini che ci mostrano il dolore degli altri, nel momento in cui le vediamo e sappiamo che non possiamo agire, che quelle immagini non porteranno a delle conseguenze, diventa sempre più difficile sopportarle e dare ad esse un senso. Sempre più immersi in un mondo di immagini, ci siamo abituati a consumare le fotografie come finzione, come rappresentazione, chiediamo ad esse cultura, bellezza, acume e ci siamo dimenticati che la fotografia lavora direttamente sulla vita, usando la pelle della gente, come diceva Ugo Mulas. Rispetto ai percorsi della fotografia analogica, si è allentato il nostro e il loro legame con la realtà, rinunciando alla possibilità di incidere con le nostre azioni sulla realtà in cui viviamo. Questo indebolimento del ruolo sociale attribuito alla fotografia è visibile in due cambiamenti di grande rilievo che investono il rapporto con l'immagine. Il crescente rifiuto a mostrare il dolore e la sofferenza, almeno nel nostro mondo, perché questo tipo di fotografie sono avvertite come un'indebita intromissione in una dimensione privata, intima. E la legislazione sulla privacy, o meglio direi la percezione della legislazione sulla privacy. Entrambi questioni che pongono il tema della tensione tra due diritti contrapposti presenti nella nostra società, quello a informare e quello a decidere dei modi in cui la propria immagine entra nella sfera pubblica. Partiamo dal primo aspetto, quello dell'esposizione pubblica della sofferenza e prendiamo in considerazione una fotografia che è questa, che mostra l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 durante un agguato, sorretto in quello che è quasi un abbraccio da altre persone del convoglio legate a un programma alimentare e di stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo. È una di quelle foto iconiche che abbiamo incontrato tante volte nel corso di queste lezioni, che ci colpisce per la sua forza, ma anche perché rimanda all'iconografia della morte di Gesù Cristo, della deposizione del Cristo. Uno schema compositivo che appunto ritorna in tante fotografie contemporanee. Eppure questa foto è uscita rapidamente dal nostro orizzonte, malgrado la sua forza, malgrado la sua capacità di coinvolgerci, perché la consorte dell'ambasciatore l'ha percepita come un'indebita intromissione in un momento intimo, privato, quello della morte, e ha chiesto ai principali mezzi di informazione di non diffonderla. Attenzione, non è una questione nuova. Il fotogiornalismo si è da sempre interrogato sulle difficoltà e ambiguità di mostrare il dolore. Lo hanno fatto Margaret Burkwhite o George Rogers davanti all'indicibile dei campi di concentramento. Roger ha addirittura smesso di fotografare per alcuni anni, sorprendendosi a ragionare sull'inquadratura di fronte a immagini così atroci. Eugene Smith ha rinunciato a diffondere questa famosissima fotografia della bambina di Minamata perché risultava ormai insopportabile per la madre, che a un certo punto ha chiesto di non mostrarla più. Ma oggi queste questioni, ma oggi di queste questioni, si discute sempre più spesso. Si tende a ritenere che certe immagini di violenze, di sofferenza, non debbano essere fatte perché sarebbero lesive della dignità di una persona. La mostrerebbero in una condizione di fragilità che non è opportuno rivelare pubblicamente. E qui bisognerebbe aprire un'ingombrante parentesi e domandarsi allora perché certe immagini di morti ammazzati, di corpi trucidati, che circolavano tranquillamente nei giornalismo degli anni 70, oggi non sono più accettabili. Pensiamo a questa fotografia tragica e brutale di una madre omicida, suicida di Franco Zecchin. Ma si guarda invece però tranquillamente, anzi come abbiamo visto, si cerca il sangue e la violenza quando il sangue è degli altri. C'è un libro molto interessante di Susie Linfield che si intitola La luce crudele, che ragiona lungamente su questo tema etico, sul problema posto da molti della liceità di mostrare questo tipo di fotografie, perché ritenute una seconda violenza sulle vittime, su uomini mostrati in una condizione che li priverebbe della loro dignità e anche una violenza su chi guarda. Eppure queste foto hanno una valenza storica, testimoniale e fondamentale. Sono un momento, un monito per ricordare quello che è stato e una fonte importante per conoscere e capire un fatto storico o sociale. Queste posizioni danno voce alla tensione tra la necessità di informare e testimoniare e quella di rispettare le vittime che possono sentirsi ferite, violate da quel tipo di rappresentazione. Una tensione che si sta spostando sempre più a favore del secondo termine, la presunta tutela del singolo, della sua immagine, della sua memoria. E allora bisognerebbe domandarsi perché, perché la percezione vent'anni fa era comunque di una condivisione della sofferenza, di una partecipazione collettiva alla sofferenza e invece adesso c'è questa chiusura, questo bisogno di non mostrare l'uomo nelle sue debolezze. Lo stesso può essere detto per il rapporto tra il diritto di cronaca e il diritto alla privacy, che ha segnato ancora più profondamente il dibattito contemporaneo sulla fotografia e i suoi usi. Sappiamo che la legislazione è sempre lo specchio di un certo tessuto politico, sociale e culturale. Negli anni settanta i cambiamenti sul diritto del diritto di famiglia diventano un'importante espressione di cambiamenti profondi nei modi di concepire la famiglia appunto e la donna. Ora la legislazione sulla privacy è una prova di un diverso rapporto con la fotografia che si viene instaurando in quest'epoca storica, di una ridefinizione degli equilibri tra spazio pubblico e spazio privato. In realtà la tutela dell'immagine nella legislazione italiana è sempre esistita. Il principio fondamentale in tema di ritratto prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, a meno che l'immagine abbia una funzione pubblica di informazione. La legislazione italiana e poi quella europea sulla privacy non hanno fatto altro che riaffermare questi principi all'interno della più generale regolamentazione della tutela della persona di fronte alle nuove possibilità di diffusione e di informazione private nel contesto di internet e della società digitale. La garanzia del diritto di informazione di cronaca però rimane. Se l'attività fotografica rientra e o è assimilabile a quella del fotoreporter professionista, recita la legge, ovvero nell'ampia indistinta categoria del fotografo solitario, pur avendo ad oggetto dati personali, è possibile usufruire delle deroghe alla relativa disciplina, laddove la pubblicazione o la divulgazione delle immagini sia qualificabile come esercizio del diritto di cronaca o comunque come libera manifestazione del pensiero anche in forma estetica, anche in forma artistica. Quindi la tutela c'è a livello legislativo e la percezione che è cambiata di fronte al rischio di controversie, di contestazioni, quello che è subentrato è stata una diversa percezione del diritto alla privacy, una diffidenza verso la macchina fotografica e quindi una tendenza alla cautela, alla censura e all'autocensura da parte dei fotografi. I reporter di strada, fuori dai contesti di guerra e di cronaca stretta, hanno iniziato a girare con il pacco delle liberatorie in borsa per avere la firma del soggetto fotografato. La tutela dei diritti e dell'infanzia regolamentata dalla carta di Treviso ha fatto sì che qualsiasi foto di un bambino venisse ritenuta in debita e quindi eventualmente pubblicata con la classica pecetta nera o con il volto pixelato. Pensiamo anche alle copertine dei libri. Se date un'occhiata alle vetrine di una libreria troverete sempre meno immagini legate alla fotografia stradale, alla fotografia umanista che invece negli anni 60 e 70 era diventata molto popolare nella grafica per le copertine e la ragione è la stessa, la paura di caos, della paura che qualcuno si riconosca nella foto, che manchi la liberatoria e che quindi la casa editrice debba pagare per aver pubblicato l'immagine. Tutto questo sta creando pesanti conseguenze sulla circolazione delle immagini nel presente e sulla costruzione di una memoria del futuro. Quello che è stato per oltre cent'anni una nuova rivoluzionaria fonte per capire la nostra società sta perdendo pregnanza sostituita da foto imposa costruite che possano garantire il consenso del soggetto. Pensiamo a quegli straordinari racconti sull'infanzia che hanno segnato la stagione umanista del dopoguerra, al lungo racconto di Werner Bishop sull'infanzia appunto dopo la seconda guerra mondiale. Sarebbero se non impossibili e molto difficili da realizzare. Quello a cui ci troviamo oggi di fronte spesso quando si fotografa il mondo dell'infanzia sono fotografie come queste o immagini che non hanno nessun senso perché la foto del bambino è sempre pixelata, è sempre coperta e quindi è come non mostrarlo. In alcuni casi è più che legittimo e in molti altri invece la questione è discutibile. Oppure la scelta che viene fatta è quella di riprendere in modo da non vedere i volti. Allora questo è un servizio, questa è una serie di fotografie sull'inizio della scuola e la scelta che viene fatta è di riprendere i ragazzi e i bambini di spalle. Allora il grande racconto che c'era stato negli anni cinquanta, Duanot, tutto un mondo di fotografi che raccontavano l'infanzia e la scuola come momento della socializzazione, la gioia, la gioia dell'apprendimento, tutta una serie di cose che anche oggi la fotografia potrebbe trasmettere vengono perdute e si scattano fotografie che in realtà potrebbero anche non essere realizzate e sarebbe lo stesso. Vi faccio un esempio che è preso dalla mia esperienza personale. Qualche anno fa ho fatto la selezione delle immagini per un documentario sul fotografo Uliano Lucas e fra i diversi scatti ho incluso questa fotografia legata a un reportage realizzato in una zona dell'Etiopia meridionale. Il corpo consunto dalla fatica di un ragazzino costretto a estrarre per ore il sale dal lago vulcanico di El Sod, lavorando nel caldo senza scampo dell'altopiano etiope, come milioni di altri bambini nei sud del mondo. Un'immagine dilaniante, simbolo di un pianeta per cui tutto sembra ormai possibile nel campo dell'innovazione scientifica ma che pare essersi al contempo rassegnato all'ineluttabilità della fame. La propongo tra le foto del documentario per la sua forza, per il suo significato, ma ricevo dalla direttrice di produzione un categorico irremovibile no. I genitali del bambino sono troppo in vista, impensabile mostrarli. Quindi l'assurdità di una negazione del senso di una foto in nome di una tutela del bambino che qui non ha nessun significato, è un'autocensura che la signora compie. La situazione è ben descritta dalla foto editor Giovanna Caldenzi in un suo scritto, in un suo testo. Ci siamo quasi abituati, ci dice. Guardiamo le fotografie sulle pagine dei periodici italiani e non ci stupiamo di vedere volti pixelati o striscette nere che coprono occhi e visi. Cerchiamo di fotografare per la strada situazioni di vita che la storia della fotografia ha reso parte integrante della nostra cultura visiva e ci accorgiamo che ci poniamo dei limiti, che preferiamo che le persone siano di spalle, che l'idea di chiedere una liberatoria o un'autorizzazione rallenta il ritmo del nostro lavoro, distrae la concentrazione. Evitiamo scientemente i bambini, abbiamo nella testa la confusa percezione che esiste una carta di treviso che li protegge e nell'incertezza soprassediamo. E la relazione che abbiamo con la fotografia e con le sue possibilità di narrazione cambia. Il recente millennio avrà, almeno in Italia e in pochi altri strutturati paesi, scarsa documentazione sulla società oggi contemporanea e sui suoi comportamenti. Laddove la fotografia e registrazione e memoria ci saranno dei vuoti di memoria. Il nostro presente rischia di non diventare immagine per il futuro. E tutto questo paradossalmente in un periodo che vede cadere sempre più le barriere della discrezione nella diffusione della propria immagine da parte dei singoli soggetti sui social media. Si assiste a un processo di crescente vetrinizzazione del proprio privato che ha avuto inizio con i reality show televisivi negli anni novanta, con i retroscena della propria vita intima che vengono sempre più portati alla ribalta. Ecco cinque foto di cinque artiste, dive o cantanti che si mostrano in un bagno. I selfie diventano un potente strumento di rappresentazione di sé, si accetta di essere ripresi dalle videocamere di sorveglianza che ormai costellano le strade delle nostre città e ancora ma quello che invece non si accetta, quello che si rifiuta è che la rappresentazione di sé venga compiuta da altri, che la propria immagine sia anche parte di una sfera collettiva e possa essere mostrata con finalità diverse dalla costruzione di una propria autobiografia. Quando in realtà la questione è molto semplice, tutto quello che cade sotto i miei occhi in uno spazio pubblico dovrebbe poi essere anche fotografabile, salvo naturalmente non usare le immagini in contesti che siano offensivi o di travisamento del senso originario della situazione. Ecco allora il discorso di questo privato che invade sempre più la sfera pubblica con il proprio sguardo sul mondo e che rifiuta invece di essere parte di un racconto collettivo costruito anche da altri ed ecco la necessità di riflettere sugli spazi, le funzioni, il valore che diamo oggi al fotogiornalismo. E con questa riflessione finisco.